Il mare come porta d'accesso a un mondo senza barriere, in cui la disabilità è solo un ricordo. È il filo condottore di Aria sotto il mare, libro del palermitano Gianluca Pellegrino, scritto grazie al contributo dell'autore palermitano Ilario Neloi, suo assistente, e con la prefazione di Patrizia Maiorca, figlia dell'indimenticato apneista siracusano. Il mare ti dà l'assenza di gravità, ti dà una forma di leggerezza, è un po' per uscire dalla carrozzina e dall'ambiente terrestre. Libertà, le movimenti, diciamo che il mare dà pace, serenità. Affetto da tetra paresi spastica, Gianluca ha trovato nelle immersioni e nel suo amore innato per il mare la chiave per interpretare al meglio un'esistenza inchiodata a una sedia a rotelle. L'educazione civica è molto importante perché l'educazione ambientale, l'educazione marina, tutto sono cose importanti che fanno crescere, aiutano l'uomo, aiutano la natura. Una storia che con leggerezza rimarca l'importanza della sensibilizzazione dei giovani verso il tema della disabilità per comprenderla e combattere alcuni pregiudizi che spesso si manifestano soprattutto negli adulti. Sente di guarda completismo, io dico sono come te, non c'è niente, e io gli imbarazzo. Oppure gli dico ma che ci guardi? Io tutto questo l'accetto da un bambino. Infatti col bambino io lo aiuto a interagire con la disabilità, gli spiego che la disabilità non è un limite, non è solo come l'ultimo ed è bello. Mentre l'adulto no, se è adulto quindi dovrebbe essere in grado di capire, però purtroppo l'ignoranza a molte volte regna. Grazie. Grazie.